. Elodie al lavoro sul nuovo album Elodie sembra aver ritrovato il filo, dopo un periodo artisticamente e umanamente complicato. . Dopo la buona partecipazione al Festival di Sanremo 2017, è stata addirittura costretta a cancellare il suo tour italiano e a cambiare la squadra creativa alle sue spalle, team che includeva anche Emma Marrone. . Inoltre, è finita la sua relazione, tanto chiacchierata, con Lele. Ora che Elodie sia affidata a Fabrizio Giannini, già manager di Tiziano Ferro e Nina Zilli, le cose sembra siano tornate a girare nel verso giusto. . Elodie ha infatti appena annunciato che sono iniziati i lavori in studio del suo prossimo album. . 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